ciao a tutti da paolo e ancora una volta benvenuti benvenuti a tutti voi amici a un nuovo episodio di italiano in podcast siamo alla puntata 659 di giovedì 13 aprile 2023 questa settimana è un po particolare quindi il programma non è molto regolare non è come è di solito infatti l'episodio era previsto per mercoledì ma ho cambiato un po e ho deciso di registrare questa sera in questo giovedì che è la vigilia della mia partenza è mezzanotte e 10 fra poco vado a dormire ho fatto quasi tutto mi sveglierò presto domani mattina per mettere le ultime cose chiudere la valigia e finalmente partirò per questa breve ma non troppo vacanza questo viaggio di cui vi ho parlato molto e anche per questo ieri non ho fatto il podcast perché volevo fare un breve saluto oggi a tutti voi prima di partire e di interrompere un po il nostro appuntamento nei prossimi giorni ovviamente non sarò a casa quindi non so se sarò in grado di registrare nuovi episodi ho provato ad attrezzarmi cioè a trovare delle soluzioni per il viaggio per registrare o provare a registrare in viaggio ma non vi assicuro che ci saranno episodi di italiano in podcast mentre sono fuori ho voglia di fare questo esperimento ma dipende un po dalla situazione insomma da come vanno queste giornate forse lo farò sarà diverso e interessante registrare il podcast lontano da casa e con dei mezzi con delle attrezzature meno adatte ma non posso promettervi però che ci riuscirò la mia intenzione c'è ho cercato di trovare dei metodi per farlo ma resta da vedere insomma come come va come vanno queste giornate di vacanza e se ci sarà il tempo e la possibilità di farlo comunque come vi ho detto questo episodio è in realtà un breve saluto però comunque vi racconto un po come sono andate queste due giornate sono state molto intense non ci sentiamo da martedì mi pare vediamo un po si esatto da martedì 11 aprile ieri mercoledì è stato un giorno molto lungo fatto di lezioni praticamente e anche piccole commissioni qualche spesa e ho iniziato a sistemare un po alcune cose per la partenza quindi ho avuto una giornata molto piena che è iniziata alle sei e mezza di mattina la prima lezione con ivan come sempre al mercoledì è molto presto questa settimana abbiamo parlato la settimana scorsa mi ero addormentato e quindi ho saltato l'appuntamento e come vi ho raccontato nel podcast questa settimana ho messo due sveglie quindi mi sono alzato però la sera prima il martedì avevo fatto molto tardi con il podcast e quindi diciamo che ero molto stanco durante la giornata avevo sonno più che altro in questi giorni tra l'altro sto facendo questo digiuno intermittente quando ceno la sera poi non mangio fino all'ora di pranzo del giorno dopo quindi ero soprattutto al mattino un po non stanco ma con poca energia e con un po di sonno ma per fortuna poi per tutta la giornata sono andato avanti con i miei incontri e ho finito più o meno alle 7 di sera mi pare sì dopodiché ho fatto un ultimo giro sono uscito per delle ultime commissioni e poi sono tornato a casa per la cena e per un po di riposo anche ma non troppo perché ho cominciato a stampare alcuni documenti a fare alcune ricerche su cose che dovevo sistemare prima di partire sono andato a dormire un po tardi anche ieri non troppo ma più o meno verso mezzanotte e mezza e ho dormito abbastanza sì però anche oggi è stato molto intenso in realtà ho iniziato molto presto a occuparmi di tante piccole e grandi cose e allo stesso tempo ho fatto molte lezioni dalla mattina fino alla pomeriggio alle 6 e ho fatto sei lezioni e in mezzo a queste lezioni sono anche uscito per fare un po di spese e le ultime commissioni anche la sera è stata un po piena perché sono dovuto uscire di nuovo per passare in un negozio e cercare una cartuccia per la stampante volevo stampare alcune cose ma il rosso il colore rosso era finito nella mia stampante e quindi sono dovuto uscire e poi ho fatto anche un altro un altro giro per passare in un altro negozio anche comprare una cosa che avevo dimenticato per fortuna a ritorno ho fatto una bella passeggiata sul lungomare e mi sono rilassato un po ma pensate che oggi ho fatto a 25 mila passi ho dimenticato una cosa però sono stanco sono un po stanco è stata una giornata intensa piena di tante cose e di tanto lavoro e ho dimenticato di raccontarvi la prima cosa che ho fatto stamattina ho fatto l'ultima corsa l'ultima corsa del mio allenamento del mio programma ma è stata una corsa facile semplice una corsa di solo sette chilometri semplicemente per mantenere le gambe allenate non troppo veloce un ritmo un passo abbastanza tranquillo come ho detto solo per riscaldare un po le gambe per non far dimenticare alle gambe che dobbiamo correre una mezza maratona domenica mattina la gara è la corsa è stata buona anche se c'è questo c'è ancora questo fastidio al gluteo destro ma durante la corsa non è stato troppo troppo fastidioso quindi penso che domenica non dovrei avere nessun tipo di problema ma comunque finirò la gara anche camminando ormai ovviamente voglio fare questa cosa e l'importante è arrivare alla fine quindi stamattina ho iniziato con la corsa tante lezioni selezioni poi tante cose da fare da ricordare soprattutto la valigia che ho finito di fare quasi finito di fare poco fa mancano le ultime cose e sì insomma potete immaginare prima di partire c'è sempre un po da pensare a le cose che sono necessarie però per fortuna ormai direi che è finita domani mattina semplicemente mi farò la barba e metterò le ultime cose in valigia chiuderò tutto e partirò partirò alle 8 e 22 da una stazione di una città vicina perché devo prendere un treno intercity questo è il nome di questi treni veloci che passano e attraversano tutto il paese in realtà il mio treno il treno previsto per domani era un frecciarossa che parte da roma quindi il programma era arrivare a roma prima delle 10 e 30 e poi partire da roma verso le 10 e 50 con questo frecciarossa per arrivare a torino alle 3 e 10 del pomeriggio mi pare ma in questo periodo mi sento un po sfortunato come ho già detto altre volte nel podcast c'è uno sciopero generale domani 14 aprile il venerdì e non tutti i treni sono cancellati non tutti i frecciarossa sono stati cancellati il mio sì ci sono ho chiamato il call center delle di trenitalia che tra l'altro è a pagamento questo è una cosa scandalosa secondo me per chiedere informazioni su uno sciopero bisogna pagare mi sembra quasi un euro al minuto comunque va bene questa è una piccola informazione che vi do sono ho parlato con questo operatore mi ha detto no ma non si preoccupi perché di solito questi treni più veloci più costosi non vengono cancellati ieri mi è arrivato il messaggio che il treno venerdì venerdì è stato cancellato è stato meglio così perché almeno sono stato avvertito in tempo e ho anche ovviamente il diritto ad avere un rimborso di questi soldi perché trenitalia ha cancellato il treno e quindi sono loro che lo hanno fatto non c'è stato qualcuno che non ha lavorato qualcuno che ha partecipato allo sciopero semplicemente il treno è stato cancellato in realtà il rimborso è previsto anche in caso di sciopero quindi se siete in italia e c'è qualche sciopero il vostro treno non parte avete diritto a un rimborso anche se il treno ha un ritardo superiore a un'ora avete diritto a un indennizzo cioè una specie di risarcimento danni non è molto in realtà se il ritardo è ancora più grande in alcuni casi c'è il rimborso del biglietto ma ci deve essere un ritardo davvero molto 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 grande forse più di due ore non mi ricordo comunque questo sciopero che speravo non creasse problemi ai miei progetti e ai miei treno la scelta migliore era questo treno che parte da salerno e arriva fino a torino è un treno che non si ferma in tutte le stazioni solo in quelle un po più importanti è un treno un po più veloce ma non come un frecciarossa o un frecciargento e quindi in realtà dovrò stare su questo treno nove ore pensate con la soluzione del frecciarossa probabilmente erano circa sei e trenta sei ore e trenta da roma a torino sono più o meno quattro ore e trenta mi pare e poi circa due ore dalla mia città per arrivare a roma forse un po di meno diciamo che più o meno sei ore sei ore qualcosa era il programma ma questo treno però impiegherà un po di più perché non è veloce come un frecciarossa e quindi arriverò a torino più o meno alle 5 e 40 del pomeriggio non è male solo due ore e mezza di ritardo quindi ci sta ci sta non è un grande problema e per fortuna però questo treno è garantito perché ci sono ovviamente sul sito del di trenitalia ci sono alcuni treni c'è l'elenco dei treni che sono sempre garantiti anche in caso di sciopero e questo treno per fortuna è tra quelli che partirà nonostante lo sciopero bene quindi questa è un po la situazione questa notizia ieri mi aveva un po infastidito perché ho dovuto perdere tempo per fare queste ricerche come vi dicevo per sistemare le ultime cose ho dovuto quindi cercare un treno fare una telefonata o due e questo mi ha fatto perdere altro tempo però da domani mi riposo un po riposerò anche sul treno sono nove ore lavorerò un po per fortuna non devo cambiare non devo scendere quindi ho un posto con un tavolino e lavorerò al mio computer probabilmente per pubblicare questo podcast mentre viaggio verso torino spero di fare una piccola dormita anche insomma spero di arrivare riposato finalmente per questa per questa vacanza e di godermi insomma qualche giorno di riposo di divertimento e di fatica anche con questa mezza maratona questo il programma questo è quello che vorrei fare e speriamo che tutto vada bene e come vi ho detto vorrei anche fare questo esperimento registrare un podcast lontano da casa ci proviamo ovviamente fare qualche video ho intenzione di andare a vedere alcune cose interessanti forse ve lo racconterò dopo insomma ci sono molti posti da vedere a torino è una città grande è una città importante è la quarta città d'italia domo dopo roma milano e napoli e quindi ovviamente potete immaginare che ci sono tante cose da vedere torino è stata per breve anche la capitale d'italia molto tempo fa molti anni fa nell'epoca del risorgimento quando l'italia è nata è stata la prima capitale se non sbaglio o comunque tra le prime e certamente ci sono come dicevo tante cose da vedere la città stessa sicuramente sarà molto bella e poi devo anche avere il piacere di correre avrò il piacere di correre in un posto nuovo per questo evento insomma che è certamente un bel ricordo ecco un bel ricordo da portare a casa ovviamente la parte più importante del viaggio la cosa più importante del viaggio è che passerò cinque giorni con sé quindi finalmente dopo un periodo un po lungo di distanza per vari motivi ovviamente potete immaginare non è facile organizzarsi ci sono tanti impegni della vita e qualche volta c'è c'è qualche difficoltà insomma a organizzarsi per viaggiare ma per fortuna questa attesa è finita quindi finalmente domani ci rincontreremo e esploreremo insieme questa nuova città ancora una volta un posto nuovo ancora una volta una nuova avventura ecco continua questa questa abitudine di incontrarci sempre in città diverse è una cosa divertente e spero che continueremo a fare questa cosa ancora a lungo ma comunque per il resto dovrete aspettare che io vi racconti qualcos'altro in viaggio oppure al mio ritorno a casa per oggi direi che possiamo chiudere qui questo breve saluto che comunque è durato anche abbastanza e quindi direi che posso lasciarvi con un aforismo o una frase celebre la notizia che voglio darvi è solo quella dello sciopero che la notizia più importante ah no c'è un'altra notizia ieri sera per rilassarmi ho guardato anche una partita di champions league c'era la partita milan napoli ovviamente sapete che io sono un tifoso del milan e il milan ha vinto 1 a 0 contro il napoli in questi quarti di finale di champions league quindi queste le uniche due notizie una buona che riguarda il milan e l'altra negativa che riguarda questo sciopero che però per fortuna non ha completamente rovinato tutto ha solo ritardato un po i miei piani ma non è riuscito a guastarmi la festa guastare la festa significa rovinare la festa guastare è un sinonimo di rovinare bene con questo direi che non mi resta che leggervi la frase celebre che ho scelto oggi per voi una frase che riguarda i viaggi una frase di ferzan ozpetek scusate mi sono bloccato mentre lo dicevo ferzan ozpetek ozpetek che forse conoscete uno dei registi più apprezzati di questa epoca e la sua frase sul viaggiare o sull'idea di viaggiare la frase che ho scelto è questa fa scorrere il dito sul mappamondo di legno e pensa ai molti confini che non ha ancora attraversato non si finisce mai di attraversare i confini quando si viaggia quando c'è il piacere di esplorare non finiscono mai i viaggi possibili secondo me mi piace pensare che nel mio futuro ce ne saranno tanti e spero anche nel vostro per il momento domani ce ne sarà uno come sempre speciale come sempre bello e ovviamente non vedo l'ora che questo viaggio cominci con la pioggia in sottofondo perché ha cominciato a piovere forse potete sentirlo con la pioggia in sottofondo io vi do l'appuntamento al prossimo episodio vi ringrazio per essere sempre così numerosi siamo arrivati a 1310 followers su spotify quindi vi ringrazio davvero tanto questo numero aumenta quasi ogni giorno ormai anzi praticamente ogni giorno siamo sempre di più continuate a seguirmi abbiate un po di pazienza in questi giorni se non mi sentirete tornerò molto presto come sempre a farvi compagnia con la mia voce e ad aiutarvi un po col vostro italiano per questa sera però vado a dormire è mezzanotte e mezza è tardi e domani mi aspetta un lungo viaggio quindi come sempre paolo vi saluta e ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti